Il mio padre Vi invito tutti ai festival delle colline Il titolo è Un Patriotus Do Artis Un Patriotus Do Artis Un Patriotus Do Artis Ci saranno i figuranti Chi è? King of the Opera Raming by Hell The World Il Bene di Parte Ginevra di Marco e Mondi di Novi La Parmigiana e la Rivoluzione Live Teatro Feardo C'era una volta in Italia Camillon Cromo La Vente Brasiliano Collettivo Snellberg Tien Impatti Vi prego di venire perché la cultura fa buono Ma che vuoi fare? Che giudide Asensi Vi prego di venire Quien? Qui? Tutti Tutti Tietro Tietro